Ora ne sono sicuro, Lars è quel Lars. L'ultima volta che lo vidi fu nell'estate del 1948. Sono certo che non mi ha riconosciuto. Io lo so chi sei. Anch'io so chi sei tu. Mio padre era un uomo pragmatico. Ho imparato molto da lui. Ogni volta che devo fare qualcosa, penso a come la farebbe mio padre. Ecco come ti vedevo quando avevo 15 anni e tu sparisti dalla mia vita. Tuo padre è testardo. Dovevamo smettere prima. È stato un incidente. Eravamo troppo stanchi per lavorare. Smettiti di essere arrabbiato. Non ti servirà a niente. Lasciala andare. Dentro di me qualcosa sta cambiando. Mi chiedo da quanto tempo ho iniziato a cambiare. Sprappuccino. No a keser. No a ti senti. La mia vita è кон Gathering.